e da una pubblicazione all'altra oggi siamo andiamo avanti a sprombattuto perché abbiamo con noi samuele revel che salutiamo ringraziamo per essere qui con noi samuele ci presenta il numero di dicembre dell'eco delle valli valdesi l'ultimo numero del 2023 samuele buongiorno a tutti e tutti innanzitutto sì è l'ultimo numero il dodicesimo anche noi seguiamo un po' la massa al flusso e quindi abbiamo dedicato un numero al natale tra virgolette nel senso abbiamo cercato di dare una sfaccettatura un po' un po' diversa un po' nostra sia dal punto di vista di territorio quindi con qualcosa legato appunto alla nostra zona ma anche come contenuti quindi pensando al messaggio natalizio quello della speranza in particolare che appunto nelle nostre chiese in questi in questi nei prossimi giorni nelle prossime settimane sarà centrale visto visto il periodo appunto abbiamo deciso di dedicare ampio spazio a questo a questo tema sì il tema della speranza è centrale appunto in questo numero di dicembre dell'eco delle valli valdesi e si snocciano insomma secondo varie storie ci sono storie più o meno locali più o meno personali anche però sono tutte storie che hanno appunto un po' la caratteristica di avere comunque una buona risoluzione una di avere anche una buona pratica no qualche anche un esempio potrebbe essere ci sono degli esempi di progetti esatto che potrebbero essere così copiati nel senso buono del termine perché sono appunto delle cose belle abbiamo cercato di raccontare dei bei messaggi in questo periodo che appunto guardandoci un po' attorno anche abbastanza vicino purtroppo di cose belle nel mondo non ne succedono così tanto ultimamente e quindi noi abbiamo cercato già con l'introduzione al numero che è un'intervista al pastore di Vilarpellice Stefano D'Amore che è anche presidente del distretto della chiesa valdesi del primo distretto appunto di spiegarci un po' anche la difficoltà perché oggettivamente il messaggio di speranza che cerchiamo di trasmettere che le chiese cercano di trasmettere non sempre trova un terreno fertile non sempre è così facile da da riuscire a tramandare a proporre alle persone certo quindi insomma messaggi certamente di speranza esempi di belle iniziative c'è un'iniziativa che riguarda l'accademia di musica di Pinerolo che porta dei piccoli concerti nelle strutture ospedaliere della della zona ci sono dei progetti che riguardano le nostre chiese locali e quindi realizzati proprio dalle comunità volevo solo appunto tornare indietro di mezzo passo non si parla soltanto di chiese ma appunto ad esempio l'accademia di musica è un ente tra virgolette assolutamente pubblico laico che però fa delle cose appunto dei bei messaggi che porta dei bei messaggi poi abbiamo una bella pagina che è stata curata da diciamolo da te e da chi era qua pochi minuti fa da Saraturn con una raccolta di storie belle dalle chiese si chiama così la pagina e quindi è stato chiesto alle varie scuole domenicali in questo caso di raccontare un po' quello che è stato fatto e quindi ci sono dei bei esempi appunto dei bei messaggi di speranza diciamo sì è delle iniziative che secondo me si possono appunto come dicevamo prima anche senza problemi replicare sono dei progetti a volte semplici ma che possono essere riproposti in altri contesti c'è anche un altro esempio di buone pratiche ecco di belle storie quello del centro di ascolto di Pinerolo che è un centro ecumenico nato in modo ecumenico già negli anni passati che prosegue il suo lavoro anche grazie proprio al finanziamento sia da parte della chiesa cattolica che della chiesa valdese con i relativi 8x1000 e che lavora sul territorio del Pinerolese e poi c'è una storia illustrata un'infografica un fumetto ogni tanto cerchiamo di proporre questo tipo di infografica sotto forma di fumetto questa è una storia che ha raccolto il collega Claudio Giamonà è una bella storia che è una storia vera non è inventata si può leggere in versione integrale su riforma.it però questa storia qua è stata rappresentata con alcune vignette e sono molto interessanti bene poi continuando c'è una bella pagina sempre di infografica realizzata dalla grafica Leonora Camuso che ci accompagna di mese in mese nella realizzazione del mensile con dei piccoli bigliettini possono diventare dei bigliettini di auguri l'idea è proprio quella nel senso magari uno anche negli ultimi giorni prima di Natale si trova corto di tempo di idee per preparare un bigliettino può ritagliarlo va incollato su un cartoncino perché la carta del giornale come sapete è molto leggera quindi per forza ci sono quattro cartoline di auguri e due segnalibri che possono essere appunto un così completare il regalo di Natale che appunto si lega poi alle due pagine successive nel senso che abbiamo come facciamo ormai da non so quanti anni almeno sei o sette di sicuro se non di più quasi dalla nascita forse dalla nascita del mensile quindi sono parecchi anni che chiediamo ai librai e alle libraie delle claudiane sparse in tutta Italia di darci dei consigli alla lettura e quindi ci sono una buona serie di libri consigliati sì libri un po' per tutte le fasce d'età abbiamo chiesto, chiediamo sempre di dare un occhio anche diciamo alla fascia più giovane quindi qualche suggerimento per il pubblico più piccolo e poi diversi tipi, saggi, saggistica, romanzi di varia tipologia quindi un grazie davvero ai librai e alle libraie delle librerie di Torino, Milano, Torrepellice, Firenze e Roma che hanno anche quest'anno collaborato è molto vario nel senso che gli argomenti appunto da libri per i giovanissimi a testi anche legati appunto al mondo della chiesa con le pubblicazioni claudiaia più specifici diciamo però ci sono anche libri che appunto possono essere letti regalati anche a chi non ha delle competenze più precise ma ama semplicemente leggere Chiudono il libro, Samuele, ancora le consuete rubriche? Sì, abbiamo le nostre rubriche, la rubrica storica è particolare di Claudio Pasquet perché ci spiega un po' il significato della parola barbette con cui vengono identificati i valdesi in generale e ci spiega un po' l'origine e questo è interessante poi c'è un'altra rubrica che durerà ancora alcune puntate che è curata da Piervaldo Rostan che sono dei ritratti di persone che hanno lasciato il segno sul nostro territorio questo mese tocca a Francesco Agli un personaggio che ha fatto il suo periodo lavorativo nel mondo della scuola ma si è impegnato anche molto in quello che era l'amministrazione pubblica quindi anche questo è una di quelle rubriche che tornerà anche nei mesi prossimi e poi cultura, sport, meteo, insomma varie notizie che riguardano il nostro territorio tutto legato al nostro territorio carina quella del meteo che si cerca di dare una spiegazione a un evento che c'è stato a inizio novembre è vero, che ha suscitato un sacco di tam tam anche sui social sì appunto anche alcune teorie direi quasi strampalate su quello che poteva essere questa aurora boreale o archi rossi aurorali stabili quindi si cerca di dare una spiegazione su che cosa siamo stati questo fenomeno che per chi l'ha visto è stato molto molto bello bene, quindi io ti ringrazio Samuele per essere stato con noi anche in questo caso a te e alla redazione di Riforma gli auguri ovviamente di buone feste ma anche a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici in questo caso lettori e lettrici anche del mensile beh certo, un augurio di un sereno periodo natalizio e ci rivedremo probabilmente, anzi sicuramente a inizio gennaio con il primo numero del 2024 su cui stiamo già lavorando ma non svegliamo ancora nulla possiamo dire che sarà un dolci inizio un dolci inizio del 2024 io vi saluto, saluto ovviamente Samuele Revell che è stato con noi saluto Sara Thun che è stata con noi poco fa e devo chiudere la trasmissione quindi saluto anche voi ascoltatori e ascoltatrici ci risentiamo domani con la consueta diretta 13.30.15 con Voce delle Chiese e ovviamente se volete iscriverci potete farlo diretta a chiocciolarbe.it a domani, ciao, un saluto, ciao Samuele arrivederci